Questa è un'iniziativa che è stata varata, come voi sapete, circa quattro anni fa, ma che all'inizio era stata concepita un po' come un momento, posso dire, anche abbastanza burocratico per fare il punto della situazione, per tarare un po' le nostre iniziative, era una cosa interna che non aveva un grande spazio di comunicazione esterna. Poi negli ultimi tre anni abbiamo dedicato molta attenzione e l'abbiamo fatta crescere questa iniziativa, l'abbiamo fatta crescere al punto che oggi noi possiamo dire che abbiamo due grandi novità e che sono rappresentate dal fatto che abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere qui con noi tre governatori importanti, Caldoro, Spacca, Ronalden, tre direttori generali importanti delle regioni nelle quali noi stiamo lavorando, Falciasecca, Castellani e Bettotti e quindi dobbiamo ringraziare tutti voi per aver voluto partecipare qui con noi oggi per fare un po' il punto della situazione di questo progetto, di questo progetto importante di Telecom Italia. E la seconda novità che oggi voi vedete è la rappresentazione all'esterno, qui l'accostamento che abbiamo voluto realizzare fra questo dibattito, questa riflessione che veniva fatta qui dentro nell'auditorium e le esemplificazioni che venivano fatte all'esterno, e cioè quali sono i servizi abilitanti sui quali abbiamo lavorato, gli smart services, le cose che alla fine sono state quelle che hanno trainato e traineranno la crescita della banda larga nel lungo periodo. Io credo che questo sia particolarmente importante e devo dire che io penso che l'anno prossimo noi dobbiamo far evolvere questo, perché in questi due o tre anni ho sentito talmente tante stupidaggini dette sulla banda larga e sulle cose che riguardano il sistema delle telecomunicazioni, che mi accorgo che il problema fondamentale è un problema di formazione, è un problema di informazione, è un problema di competenze, di conoscenze, di professionalità, e le professionalità sono qui all'interno di Telecom Italia prevalentemente, perché anche quelli che sono andati all'esterno, in fondo, quelli che sono oggi i nostri concorrenti, sono fatti prevalentemente da donne e da uomini che stavano in Telecom Italia e che hanno portato un bagaglio di esperienze importante che ha arricchito il mercato e l'ha fatto crescere. Bettotti prima diceva una cosa molto importante, questo è un paese che cent'anni fa aveva più del 50% della popolazione analfabeta, questo è un paese che 50 anni fa dopo la guerra aveva praticamente il 70% della popolazione che non sapeva parlare l'italiano, un paese dove l'italiano è cresciuto nel tempo grazie alla televisione, grazie ai mezzi di comunicazione di massa, oggi possiamo dire che è un paese dove più o meno tutti conoscono l'italiano e dove più o meno tutti sono alfabeti, anche se non è poi veramente così, è solo la retorica del fatto di essere stati per un certo periodo in condizioni storiche molto particolari un grande paese perché c'era la povertà nel terzo mondo, perché c'era la divisione della cortina di ferro e quindi eravamo un piccolo gruppetto di paesi industrializzati e in questo piccolo gruppetto noi facevamo la nostra bella figura, però con l'allargamento del mondo e con il fatto che negli ultimi 20 anni la crescita non c'è più stata in questo paese, noi siamo tornati ad essere quello che eravamo prima, c'è un paese piccolo, un paese relativamente povero, un paese pieno di problemi, un paese che deve con modestia e con determinazione incominciare a guardarsi all'interno e affrontare i drammatici problemi che il paese deve affrontare e quindi quando pensiamo ai problemi dell'infrastrutturazione, ai problemi della banda larga, dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo fare i conti, come veniva detto durante le presentazioni, con un gap culturale enorme, quindi è un problema che va affrontato con determinazione ma anche con la consapevolezza che i problemi ci sono e i problemi vanno affrontati con serietà e con determinazione. L'annuario del Digital Divide che è stato presentato oggi e che vedo crescere in termini di contenuti, in termini di ricchezza di presentazione, in termini di utilità è una riprova della serietà e della trasparenza con cui noi affrontiamo il problema del Digital Divide. Trasparenza e serietà che noi affrontiamo in tutte le operazioni, in tutte le cose che abbiamo messo in campo. Ecco, devo dare qui atto al nostro Presidente che al posto di limitarsi a presiedere il Consiglio d'Amministrazione proprio in funzione della crescita della banda larga si è fatta il giro di tutte le regioni italiane e continua a fare un'attività di marketing digitale molto molto importante. Quindi vuol dire che tutti, dal Presidente all'amministratore delegato a tutti quanti noi, siamo impegnati in un lavoro che è un lavoro veramente importante, un lavoro di crescita del nostro Paese. Ed è per questo che noi pensiamo che la serietà, la responsabilità e la trasparenza con cui abbiamo deciso di descrivere, di analizzare, di quantificare con chiarezza tutti i problemi esistenti, che non sono solamente i problemi di infrastrutturazione, sono i problemi tecnici che noi conosciamo bene, le centrali scoperte, le linee lunghe, i MOOCs, eccetera, che rappresentano una situazione molto trasparente di effettiva disponibilità di banda. Ecco questo, guardate, all'estero non c'è. Cioè il problema della distinzione fra copertura lorda e copertura netta non lo si trova all'estero con la chiarezza e con la franchezza con cui noi lo affrontiamo qui in Italia e con cui noi lo rappresentiamo nella nostra pubblicazione. All'estero si parla unicamente, genericamente, di copertura come se il problema delle linee lunghe non esistesse e teniamo presente, lo dirò fra un po' anche, che data la topologia della rete di Telecom Italia le linee in Italia sono più corte che negli altri paesi e quindi noi all'estero abbiamo un problema di linee lunghe molto più rilevante che da noi e quindi il degrado della banda disponibile al cliente finale è un problema molto più forte. Ecco, in Italia noi abbiamo affrontato il problema del digital divide in tutte le sue sfaccettature nonostante appunto i problemi che questo poneva perché è chiaro che dire oggi abbiamo praticamente risolto il problema della banda larga in Italia perché abbiamo praticamente coperto il digital divide di prima generazione un po' al 97-98-99% della popolazione è diverso dal dire, come abbiamo visto e come avete visto nella slide prima però sulla digital divide di seconda generazione, sul digital divide di... adesso poi si tratta di terminologie però è chiaro che quando parliamo di digital divide e diciamo che la popolazione non ha i 20 megabit ecco diciamo qualcosa che se non al 60-72% diciamo qualcosa di importante e diciamo qualcosa di trasparente. Ecco noi non abbiamo mai cercato di sminuire il problema del digital divide. Quando ci si dice, ah ma Telecom Italia non vuol parlare di nuova rete, non vuol parlare di nuove infrastrutture, vuol preservare il monopolio, vuol preservare le rendite di posizione, questo non è assolutamente vero. E proprio l'esempio di oggi, proprio quello che stiamo facendo oggi ne dà la dimostrazione. Noi abbiamo sollevato le questioni, le abbiamo analizzate, abbiamo esaminato in profondità i problemi e abbiamo agito perché noi siamo convinti che i problemi non si risolvono nascondendoli, si risolvono affrontandoli. A questa dose di trasparenza che noi mettiamo nella nostra comunicazione, noi però possiamo anche pretendere di avere un'altrettanta dose di disponibilità a capire da parte dei nostri interlocutori. Ecco questo è un tema su quale noi ci dovremmo impegnare e qui lo dico a tutti quelli che hanno lavorato a questo bel rapporto su Digital Divide a partire dall'anno prossimo perché questo non sia solamente un'occasione interna dove sì, invitiamo quelli che hanno avuto con noi dei rapporti importanti, dove abbiamo realizzato dei progetti importanti come nelle Marche, nel Trentino, in Lombardia, in Sardegna, in Valle d'Aosta, in Campania, eccetera, ma dove tutti quanti sono informati di quelli che sono i problemi e di come i problemi si risolvono. Quando si parla di rete, purtroppo, come tutti voi sapete, avete esperienza, è un po' come parlare, e questo devo dire è anche positivo, perché significa che la gente ci tiene molto, significa che la banda larga è diventata, come si diceva prima, una componente fondamentale dei diritti di cittadinanza. Però quando si parla di rete sono un po' tutti come l'allenatore della nazionale, sanno tutti che cosa fare, sanno tutti quali investimenti devono essere fatti, che cosa manca, che cosa non manca, perché siamo avanti, perché siamo indietro, che cosa deve essere fatto sulla fibra, che deve essere buttato via tutto il rame e deve essere tutto sostituito con la fibra, che deve essere tutto point to point, mentre il Gipon non va bene. Ecco, diciamo che c'è tutto un dibattito, che è un dibattito fatto da persone che orecchiano questi temi, molto spesso è anche positivo che abbiano tutti quanti un'infarinatura di telecomunicazioni, ma che molto spesso non sanno di che cosa stanno parlando, perché quando si parla, e qui vorrei parlare brevemente della nuova rete, visto che abbiamo parlato di digital divide sulla rete che esiste, e Cicchetti ha fatto vedere come si evolve la nuova rete dalla rete esistente, come la cura della fibra è una cura progressiva, che progressivamente sostituisce il rame, ma non lo sostituisce completamente, si integra abbastanza armoniosamente. Ecco, forse una cosa che va detta è che quando parliamo di nuova rete, non parliamo di una rete che sostituisce il rame alla fibra, ma di una rete che fa delle cose completamente diverse da quelle che faceva la rete in fibra. Diceva Cicchetti, o ne accennava Cicchetti, poi credo vi varrà la pena su questi temi di fare un'ulteriore riflessione, un'ulteriore presentazione, ecco, quali saranno le caratteristiche delle nuove reti, delle reti di futuro? Non sarà solamente la velocità, sì, le reti del futuro saranno più veloci, ma come avete visto la velocità cresce progressivamente, non è una macchina che improvvisamente passa da 7 megabit a 100 o a 1 gigabit, è una macchina dove la velocità cresce mano a mano che la fibra viene integrata, mano a mano che gli apparati vengono cambiati, mano a mano che l'elettronica viene ammodernata, è una macchina che si integrano anche reti fissi, reti fisse con reti mobili, così come abbiamo fatto noi fra i primi a livello internazionale nella nostra rete. Ma le reti del futuro saranno reti completamente diverse, prima di tutto perché saranno completamente automatizzate, l'attivazione, la configurazione, l'erogazione, il controllo dei servizi, la diagnosi, la riparazione, il ripristino dei servizi a seguito di possibili guasti, saranno tutte azioni che potranno essere svolte in tempo reale senza ricorso al fattore umano, senza operazioni manuali e quindi senza necessità di fare intervenire un tecnico, quindi molto più rapide, molto più affidabili. La rete del futuro sarà anche una rete multiservizio, che significa che la rete non servirà solamente agli individui per comunicare, ma sarà utilizzata per distribuire contenuti, per elaborare e immagazzinare dati, per gestire le transazioni, per fare molte cose che adesso alcuni stanno facendo o fanno in parte, ma che in futuro apriranno nuovi e più importanti scenari di cambiamento del modo di lavorare, del cambiamento del modo di divertirsi, del cambiamento del modo di vivere. E poi, e questa sarà la cosa più importante, la rete del futuro sarà una rete consapevole del cliente e del contesto in cui il cliente vive. È chiaro che qui ci saranno dei problemi da risolvere in termini di privacy, in termini di gestione dei dati, che tra l'altro alcuni, quelli che accedono alla rete dall'esterno, accedono dagli Stati Uniti, quelli che si chiamano gli over the tops, cioè quelli che lavorano sopra la rete, Facebook è stata ampiamente citata, ma Google e tutti gli altri hanno già, cioè usano già, usano già intensamente, usano con applicazioni come, non so, Latitude, dove c'è la consapevolezza di dove sei, che cosa stai facendo, che cosa vorresti fare, in che momento lo stai facendo, eccetera, eccetera. E quindi ci sarà la possibilità di interagire molto più attivamente. Quindi il problema della rete non è un problema di velocità, il problema della rete è un problema di come questa rete possa servire per cambiare le vite di tutti quanti. e quindi io credo che noi su questo dovremmo in prospettiva riflettere, mano a mano che potremmo portare i risultati degli investimenti che stiamo facendo, noi dovremmo riflettere su come utilizzare questa nuova rete per il cambiamento e per il miglioramento della vita di tutti i nostri cittadini. Quest'anno, il tema grosso di quest'anno, è stato la rete di nuova generazione, di prossima generazione, la Next Generation Network, la Next Generation, la rete di accesso di prossima generazione. Voi avete visto che tutto questo è stato oggetto di un dibattito molto importante, che ha avuto prima di tutto oggetto, come oggetto, la rete di Telecom, se Telecom fosse sufficientemente impegnata nello svilupparlo o meno, abbiamo dimostrato molto chiaramente che non solo eravamo impegnati a sviluppare la nostra rete, ma eravamo gli unici che potevamo lavorare perché la rete del futuro si costruisse, perché è l'insieme di tutte le competenze e le professionalità di Telecom che consente alla rete del futuro di essere costruita. Però abbiamo voluto fare un passo in avanti, anche perché tutto quello che facciamo lo facciamo senza arroganza, senza il minimo rimpianto per le condizioni di monopolio, ma dando la massima disponibilità, ma una disponibilità consapevole, una disponibilità attenta alle cose che possono essere fatte, non alle costruzioni che non portano da nessuna parte. voi sapete la famosa battuta che i gruppi di lavoro sono quelle cose che quando disegnano un cavallo lo fanno a forma di asino, un gruppo di lavoro, un condominio è una roba dove si passa più tempo a litigare che a fare le cose, noi abbiamo detto chiaramente che noi ci assumevamo la responsabilità di fare, ed eravamo anche disponibili a partecipare, a mettere insieme ad altre le nostre competenze e le nostre responsabilità. Però noi non volevamo condomini, perché condomini sono quelle cose dove poi non si va avanti, dove se c'è da mettere un filo ti bloccano, dove c'è la gente che non vuole che stendi la biancheria perché dà fastidio, insomma sono tutte quelle cose che ti impediscono di fare, non che ti consentono di fare. Io sono contento di come sia stato fatto il processo che ha portato poi alla firma del memorandum of understanding col ministro Romani nel corso degli ultimi mesi. Un memorandum of understanding che si focalizza e fissa due principi fondamentali. Il primo principio è che gli investimenti compiuti dalla società partecipata da più operatori ed eventuali soggetti pubblici riguarderanno le infrastrutture passive e prevalentemente le opere civili. Quindi si va nella direzione che è stata una direzione di successo, che è stata quella di Infratel, dove si sono riuscite a fare delle cose importanti, a migliorare la velocità e la funzionalità della rete, però mantenendo l'intervento pubblico e l'intervento partecipato di tutti gli altri all'interno dei limiti che sono limiti di funzionalità, limiti sui quali tutti quanti ci possiamo trovare d'accordo e sui quali invece c'era e c'è bisogno di accelerare perché si tratta di investimenti che hanno ritorni a tempi molto lunghi. E il secondo è che gli investimenti compiuti dalla società partecipata da più operatori interesseranno le aree in cui non sono previsti altri interventi da parte dei soggetti che già muovono. Abbiamo visto che alcuni soggetti di telecomunicazioni hanno deciso di investire nella rete di nuova generazione alla collina Fleming. Benissimo, ben venga, noi siamo partiti a Milano, a Roma, a Catania, se partiremo a Venezia, ecco abbiamo avviato un progetto per la banda larga su Cagliari in partecipazione con un altro operatore, quindi noi siamo in movimento, non vogliamo essere fermati da questo movimento, vogliamo realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale dell'Unione Europea, anche se va detto chiaramente che quando noi diciamo che realizziamo gli obiettivi dell'agenda digitale, noi parliamo della parte passiva, della parte infrastrutturale, ma l'agenda digitale si riferisce alla parte attiva, si riferisce al fatto che i cittadini utilizzino effettivamente le risorse di rete che vengono messe loro a disposizione e che oggi non utilizzano e che invece noi dobbiamo con le iniziative, Fornaro le ha citate prima, che sono in corso, noi dobbiamo far sì che la gente le utilizzi. Quando noi investiamo nel digital cafe, nel internet saloon, quando investiamo in tutte le operazioni di acculturazione, soprattutto delle persone che sono un po' più avanti negli anni, non oso dire che sono anziane perché poi dipende sempre da qual è l'età di riferimento, ma insomma quando noi parliamo di gente che a 60 anni non ha la competenza, la conoscenza per usare internet, ecco noi dobbiamo, è il nostro dovere civile fare lo sforzo per far sì che questi lo utilizzino. Per questo noi abbiamo sviluppato la banda larga sulla televisione, noi ci siamo messi primi al mondo nella over the top TV con l'esperienza CuboVision che è una piattaforma multi apparati, voi la trovate sul cubo fisico, la trovate sulle connected TV, la trovate sul bollino gold del digitale terrestre, lo trovate sul computer, insomma lo trovate dappertutto. Perché questo? Perché noi pensiamo che buona parte della popolazione italiana il computer o una metà della popolazione italiana il computer non l'ha mai visto, mentre il 90%, il 98% della popolazione italiana vede 4-5 ore al giorno la televisione. Quindi se noi riusciamo a dare un'esperienza con la televisione, che è un'esperienza di banda larga, e lo sviluppo degli apps, delle applications, e quindi come si diceva prima la morte del web e la vita di internet che rende molto più facile, molto più agevole l'uso, l'utilizzo di internet, ecco in questo noi abbiamo dimostrato una capabilità e una determinazione nonostante le difficoltà e nonostante i problemi e oggi siamo in una condizione che io ritengo del tutto soddisfacente. Ma bisogna farla evolvere perché poi con quella scatoletta noi dovremmo far evolvere i servizi al cittadino. Cioè non è che ci limiteremo a far vedere la web tv, youtube e tutte le altre applicazioni da entertainment. Noi vogliamo che quella scatola si riempita di contenuti di servizio, di servizio per il cittadino, in modo tale che un cittadino normale senza dover accedere al computer possa dalla televisione utilizzare, perché la tecnologia lo consente, utilizzare i servizi che gli rendono molto più facile la vita. Ecco io credo che noi abbiamo fatto da questo punto di vista un grande passo in avanti. la conclusione del tavolo romani consente di andare avanti ad aumentare la disponibilità di banda, perché è chiaro che se noi vogliamo dare la televisione, nonostante le difficoltà, l'esperienza non positiva dell'IPTV, però in Italia c'erano già due piattaforme importanti che erano la free to air analogica ed era il satellite, quindi l'IPTV aveva difficoltà per entrare, però questo è, a mio modo di vedere, un must fondamentale. Noi sulla televisione dobbiamo esserci, dobbiamo per dare a tutti quanti un'esperienza positiva dei servizi che vengono erogati attraverso la televisione dobbiamo aumentare la disponibilità di banda. È chiaro che oggi con quello che abbiamo fatto basta una banda molto limitata, ma mano a mano che i servizi si evolvono noi dobbiamo garantire più banda, dobbiamo garantire i 20 megabit a tutta la popolazione italiana e progressivamente dobbiamo dare sempre di più, dobbiamo dare la fibra ai distretti, dobbiamo fare in modo che la cultura e l'infrastruttura di questo paese si evolvano in modo corretto e in modo sostanziale. Voglio dire qualcosa sugli over the top. Ogni tanto io faccio delle battute cattive su questi che usano la rete senza pagare dazio, senza pagare transito, fanno business perché chiaramente Google oggi ha una situazione economica del tutto confortevole. Google si può permettere con i soldi che ricava dalla sua attività a livello mondiale di pagare 9.000 ingegneri, 3.000 fra scienziati e ingegneri di telecomunicazioni informatiche, fra i migliori al mondo per inventarsi costantemente nuovi servizi e nuove applicazioni. Devo dire che questo tema è un tema che consente a questi di vivere in qualche modo parassitariamente sulla nostra rete, non contribuiscono per niente alle infrastrutture, assorbono banda. Voi sapete che il 60% della nostra rete è utilizzato dalla banda che viene assorbita da applicazioni video, video che vengono utilizzati sia diciamo in un sistema peer-to-peer, BitTorrent e Emule, oppure da YouTube, comunque diciamo che viene assorbito da utilizzi che sono utilizzi del tutto gratuiti e che sono in qualche modo tra l'altro anche impropri. Ecco, quindi noi siamo costretti a far crescere gli investimenti perché la banda disponibile viene utilizzata in questo modo. Però devo dire, diciamo questa volta spezzando una lancia a favore degli over the top, che gli over the top giustamente trovano un grande consenso nel pubblico e nei clienti perché mettono a disposizione dei servizi che sono servizi molto pregiati e che sono servizi gratuiti e purtroppo di servizi gratuiti, adesso l'ultima non la voglio neanche citare per scaravanzia sul mobile, ma di servizi gratuiti purtroppo continuano ad essere messi in rete in modo veramente incredibile. Tra l'altro devo dire, ed è la cosa più paradossale, che i servizi gratuiti che vengono messi in rete sono servizi più avanzati di quelli che vengono dati alle imprese. Cioè oggi un consumatore ha a disposizione gratuitamente servizi migliori e più performanti di quelli che ha a disposizione un'impresa che paga invece per averli. Quindi voglio dire, è chiaro che da questo punto di vista l'affetto che i clienti nutrono nei confronti degli over the tops è destinato a crescere perché non c'è niente di meglio che non pagare niente e avere dei servizi importanti. Quindi questo a noi pone dei problemi strategici importanti, pone dei problemi strategici quanto alla tariffazione ai nostri servizi. È chiaro che in prospettiva si andrà verso un sistema dove noi non potremo che far pagare solamente l'accesso, quindi l'accesso dovrà essere valorizzato molto di più di quanto non sia valorizzato oggi. Dobbiamo lavorare sui servizi, dobbiamo capire quali sono i tipi di servizi nei quali noi abbiamo e possiamo avere un ruolo. Però direi che tutto questo è un tema di grande prospettiva ed è un tema positivo. Un tema che indica che stiamo muovendoci in una direzione di crescita, in una direzione di progresso, in una crescita nella quale tutta la cittadinanza beneficia di servizi e di attività che rendono a tutti quanti una vita migliore. Io penso, e qui voglio concludere, che quando si parla di futuro normalmente si parla di discontinuità. I dibattiti che voi sentite sulla rete sono dibattiti che dicono ah ma la rete vecchia va buttata via, bisogna fare una rete nuova. Come se si potessero buttare via 100 milioni di chilometri di rete costruite nel giro di 100 anni. Insomma, tutte cose che francamente non hanno cittadinanza. La verità è che il futuro è un'evoluzione del presente, che richiede più investimenti, più infrastrutture, che richiede più formazione, che richiede più innovazione. Ma il futuro è anche e soprattutto un'evoluzione del passato. Perché è il passato, è l'accumulazione del tempo che ha consentito di formare le esperienze che le donne e gli uomini di Terigom Italia hanno messo a disposizione del Paese per farlo crescere, per renderlo sempre più avanzato, per metterlo in condizione e per mettere in condizione noi tutti di assolvere a quella missione di crescita per l'Italia che sta scritta nella nostra ragione sociale. Grazie.